Cosa fa TMB? TMB è un'agenda che produce componentistica di precisione per settori industriali diversificati. Specialista prima di tutto nelle componentistiche in lega leggere, oggetti ottenuti per i processi fusori, di fusione, pressofusione e colata gravità e realizza questi componenti per applicazioni del settore auto, motociclistico. Le nostre politiche sono quelle di acquisire la leadership del mercato, quindi il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare in pieno le esigenze del cliente in tutte le sue risvolti estetici, qualitativi e di prestazione. Abbiamo trovato nel partner Winoa uno specialista capace di darci non solo i parametri, ma anche i materiali più convenienti per garantire l'integrità della superficie e la predisposizione per le attività successive che distinguono il nostro prodotto da quello che altri concorrenti forniscono nel mercato. Anche le fasi di finitura sono molto importanti per dare una caratteristica estetica al prodotto e questo lo raggiungiamo usando macchinari e graniglia di altissima qualità. Quello che ci aspettiamo da questi prodotti sono una costante qualità nel tempo e una lunga durata del prodotto. Ci aspettiamo un'ottima finitura estetica, senza residui, per poter facilitare anche l'aggrappaggio della vernice in caso questa sia richiesta. Il nostro obiettivo è quello di continuare la collaborazione con Winoa per continuare la formazione e la ricerca di prodotti che ci aiutino a migliorare l'aspetto qualitativo e ridurre i costi. Con l'utilizzo di Stelux come prodotto e l'affiancamento di WA Cost abbiamo potuto raggiungere un ottimo obiettivo e conoscenza di quelli che sono i costi per produrre i nostri prodotti e ci ha permesso anche di ottimizzare i processi per ridurre i costi stessi. La loro collaborazione si estende anche con della formazione tecnica specializzata mirata a questi processi. Innovation è l'obiettivo di Winoa a sostegno dei clienti per ricercare sempre nuovi prodotti mirati al raggiungimento degli obiettivi dei clienti stessi. Grazie 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 Grazie